Easy Go Io non sono un cliente Dovevo immaginarlo E cosa vuole? Un omaggio? Sono Scott Shelby, investigatore privato Le famiglie delle vittime dell'assassino dell'origami mi hanno chiesto di indagare Sono qui solo per farle alcune domande su Johnny Ho già detto tutto alla polizia e non ho niente da aggiungere Mi lasci in passo La capisco, Loren So quello che sta passando Ah sì? Lei sa cosa significa trovare il cadavere del proprio figlio? Mi dispiace, ma credo che lei non abbia la minima idea di quello che sto passando Ci saranno altre vittime se non fermiamo l'assassino Lei mi deve aiutare, Loren Potrebbe sapere qualcosa di utile alle indagini Aiutarmi Ma lei non può fare più nulla Mio figlio è morto, lo capisce? È morto! Se non troviamo l'assassino, altre madri stringeranno fra le braccia il cadavere del figlio Ma lei ha ragione Perché preoccuparsene? Non è più un suo problema, giusto? Cosa vuole sapere? Ma lei non può fare più niente alla velocità di Dora Grazie.